Eh, parlami, tu chi vorresti che ti entrasse in casa? Eh, Chiara Ferragni! No, basta, un altro devi dire! Come? No, no, Chiara Ferragni? Un altro detto! Vabbè, allora... Eh... E fai pensare... Eh, Elon Musk... Nooo, quello veramente... Lì ci chiedi i soldi, lì! Lì, di brutto! Ma che? Cioè, quello lì è entrato dalla porta, lì c'è la finestra, prego! Ma no! Ma no, resta dentro! Chiudo il dentro proprio! Ma ti pare? Ma scusate, no! Mi sta antipatico! Ma cosa? No, no! Non lo so, per chi mi sta... Oh, senti! Posso esprimere un mio diritto? Ho capito, ma non è che puoi dirgli di andare fuori dalla finestra! Ma senti, con tutte le macchine volanti che c'ha, vedi che non c'è una... Non c'ha le macchine volanti! Non ti ho detto, no, non penso! Come no? No! Scusa, non devo andare su parte! No, la Tesla, però, effettivamente, non mi piace tanto neanche a me! Però lui è una brava... No, no, messa antipatico! Basta! Non ci interessa della tua antipatia! Va bene, va bene! Cico, non vorresti che ti entrasse Sangio in casa, per tipo? Sì, Sancho! Sancho, no, non è... Basta! Sancho! E chi è? E tu sei la mia lady, paparapà! Eh, non lo conosco! E mi svuoti i bicchieri, paparapà! Ed entri in punta di piedi, con la tua vita sregolata come le rockstar! Oddio, ma non lo voglio in casa!